Un ciao a tutti i vederosi, benvenuti a questo appuntamento con Cassignoli, orologeria, gioielleria e quindi con Alessio Cassignoli. Ciao, ben ritrovata e ben ritrovati a casa, grazie ancora per tutti i vostri complimenti e le manifestazioni di grande approvazione. Vi ringrazio ancora. Pescherò qualcosa adesso per farvi vedere. Per te, sostengo. No, no, facciamo così, per esempio, questo è il 16800, lo vedete senza bracciale, ma c'è il suo bracciale, l'abbiamo voluto farlo vedere anche senza, perché questi orologi si possono portare così. Diciamo che Santino non ha ascoltato, però io volevo mettere un cinturino ancora più vintage, più scuro, un po' più vissuto, fintamente vissuto, perché li vendiamo appunto, sembrano usati, ma non lo sono, sono molto robusti, particolari. Quindi, ecco, ricordiamo, abbiamo anche i cinturini, non solo, abbiamo i portachiavi, abbiamo anche per l'uomo abbiamo tante altre cose, non soltanto gli orologi, quindi gioiello da uomo e insomma degli altri prodotti. Possiamo farvi vedere, beh, questo è un altro Ghiera Verde. Questo è il numero 115, 16.000 euro. Possiamo farvi vedere, Submariner, quadrante blu, è il numero 275, lui è del 2006, completo di scatola e garanzia, referenza 16613. Grazie ancora per tutti i vostri complimenti. Questo è, Rosy, un Submariner fuori produzione da molto tempo, è un senza data, quindi con vetro plastica e la referenza è il 5513. Appena ritirato dobbiamo ancora revisionarlo, ancora lucidarlo. Ve lo presento così, la zona colore deve essere sistemata, deve essere revisionato all'interno, ma è un prodotto veramente di alta qualità ed è 1984. 84. Qui abbiamo Panerai, Tagore, Tudor, Omega, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo i tag, diciamo, vintage, per esempio come questo, che lo mettiamo qua un attimo fuori, poi lo mostro un attimo, il tag Monaco, il tag, poi Monza abbiamo anche quello, i Tudor, Tudor nuovi, Tudor d'epoca, Tudor Black Bay, GMT, solo tempo, sempre subacquei, sportivi, Panerai, titanio, 44 mm e 42 mm, nuovi, mai indossati, scatola e garanzia. Carrera Oyer, questo è un orologio degli anni 70, veramente in ottime condizioni, abbiamo anche queste, diciamo, queste opportunità. Bene, questi prodotti sono tutti orologi vintage, orologi fuori produzione, che noi revisioniamo, ricondizioniamo, ma mantenendo la loro originalità. Vedete? Di vintage abbiamo altro, da Audemars Piguet, oro rosa, da, passiamo a questo Vachione Constantin, questo Rolex che, chiede a Valeriano, non mi ricordo il nome, di questo Rolex, Saturno, questo orologio è un orologio estremamente raro, si chiama Saturno, e poi abbiamo questo vintage, veramente bello in acciaio, che sono molto rari questi, poi Jägerle Cutter, insomma, ne abbiamo veramente tutti i colori. Bene, gioielli, prendo quelli, me li passi tu Santino? No, ci penso io, vediamo se riesco, senza rovesciare tutto, ok. Questi sono una piccola parte dei gioielli castignoli, rivier, in oro bianco, rosi, guarda anche tu, naturalmente. Bellissimi, sì, sì, ma me li sono gustati tutti prima, eh, di iniziare. In oro bianco, in oro giallo, solitari, oppure solitari come questo, solitari che noi abbiamo creato, è il nostro modello, ha, quindi, la pietra centrale con cuscinetto laterale intorno, in più tutto l'Eternel, quindi abbiamo modello Eternel, modelli a 5 pietre, 7 pietre in rivier, solitari, trilogi, rainbow, che vuol dire, quindi, come il mio tennis, tutti i zafferi, tutti i colori, una gioielleria veramente di altissima qualità. Sì, intanto stanno anche guardando qualche carrellata che abbiamo fatto prima, proprio per farvi capire tutto ciò che non riusciamo a presentarvi, che comunque trovate qui. Questa è una scatola, una delle varie che abbiamo, con modelli di pomellato, potrebbe avere dentro qualcosa di bulgari e, sì, soprattutto di pomellato qui, credo, comunque. E, insomma, abbiamo anche modelli, questi sono modelli che acquistiamo da privati, per farvi capire. Quindi ricondizioniamo, lucidiamo e riproponiamo. Bene, sarebbe bello, in diretta, cioè inregistrata, ma comunque, dovete sapere che fino adesso tutte le registrazioni... Noi facciamo buona la prima, quindi è come se fosse una diretta per te, in realtà. Le ho fatte sempre, breve, ragazzi e rosi, le ho fatte sempre senza mai fermarli. E, difatti, con i miei piccoli errori, i miei grossi piccoli errori, io vado avanti. Vi mostro... Beh, questo è tutto, diciamo, un insieme di tra tennis. Per esempio, questo è un pomellato, un pomellato che vedete qua, non lo posso mostrare adesso perché sta girando dall'altra parte. Comunque, vi faccio vedere. Gioielli castignoli vuol dire realizzati da noi, sul nostro disegno, con nostre pietre. E poi abbiamo dei marchi. Questo, invece, ve lo farò vedere, è un paio di orecchini eccezionali. Se riesci a inquadrare più da vicino, mi fai un favore. Te li metto qua, guarda, provo a vedere se riesci. Troppo vicini? Qua, così. Ecco, si vedono. Boucheron, Place Vendôme a Paris. Modello esclusivo, venduto solo da Boucheron. I diamanti che vedete a goccia sotto, sono diamanti forati. Diamanti di altissima qualità e modello esclusivo soltanto di Boucheron a Paris. Questi gioielli vengono presentati o soltanto da loro o alle aste. Comunque, noi abbiamo queste cose, questi gioielli e a tanto altro. Abbiamo dei bracciali tennis e delle collanne eternelle, insomma, zaffiri. Questo, per esempio, tanzanite. Tanzanite è una pietra che piace molto e ci tengo appunto a mostrarvela. Poi volevo comunque parlarvi anche dei nostri marchi, dei marchi di gioielleria, ma adesso prima vi faccio vedere, prima, ecco, questi apparecchi per la ricarica degli orologi, che sono i Wolf. Benissimo, ci teniamo perché vi consigliamo di far andare i vostri orologi. Avranno meno bisogno di revisioni, perché quando l'orologio viene mantenuto in funzione, l'olio viene mantenuto viscoso e quindi sicuramente avrete meno, meno bisogno di revisionare i vostri orologi, se manterrete gli orologi in movimento. Addirittura molti miei clienti li mettono nella cassaforte. Quindi, con questi apparecchi, che comunque ci sono singoli, tipo questo, come potete vedere, al prezzo di 399 euro, di vari colori, blu, marrone, verde e anche camouflage pink per le signore che vogliono appunto avere qualcosa di particolare, o se no doppi, o anche più complicati, con addirittura portagioie. È un'azienda che fa veramente tante cose interessanti. Ha prezzi molto buoni e di altissima qualità. Li usiamo noi in negozio, ve li consigliamo. Poi vi presento il marchio, passiamo alla gioielleria, il marchio Namuri. Purtroppo non posso farvi vedere delle novità perché sono in arrivo. Abbiamo fatto il riordino sia delle cose che abbiamo venduto a Natale e comunque arriveranno nuovi modelli, ve li presenteremo alla prossima trasmissione. Quindi abbiamo sia Namuri, gioielli di altissima qualità, abbiamo quel Borsari che è un marchio di gioielleria da uomo e da donna. Poi abbiamo i gioielli Castignoli e Artlinia, che veramente ci soddisfa su tutti i fronti. Siamo molto contenti di aver presentato i nostri prodotti, queste meraviglie. assolutamente sì. Guarda, siamo quasi arrivati alla fine, insomma abbiamo proprio due o tre minuti per ricordare un po' quella che è la tua filosofia, cioè revisionare gli orologi, controllarli veramente al 100% millimetricamente in modo da darvi un buon prodotto. Fate le permute, quindi se dovete vendere il vostro orologio viene acquistato, ma se volete permutarlo con qualcosa di nuovo e anche i gioielli hai detto, stavolta hai detto una cosa in più, cioè che potete anche dare i vostri gioielli. Ma noi li acquistiamo senza permuta, in più se invece ci porterete i vostri gioielli e anche l'oro, noi lo valuteremo, lo sopravaluteremo perché il guadagno lo abbiamo già sulla cosa che vi stiamo vendendo. In finale volevo mostrarvi, non ce la posso fare, ecco un altro ricarica orologi. Questo è bellissimo. È il Bernard Fevre, è un'opera d'arte in movimento. Davvero, è bello anche se lo è da guardare, guarda. Davvero, sì, sì, sì. Quindi, niente, volevo mostrarvi questo che è chiaramente di design, questo non è da cassaforte come potete vedere, però ecco lo potete tenere in casa anche sui vostri mobili più belli. Vi aspettiamo in negozio e qualsiasi cosa abbiate bisogno, chiamateci, interpellateci, noi siamo pronti a soddisfare le vostre domande, le vostre, come si può dire? Curiosità. Curiosità, ma se non mi veniva. O per dire, tu hai detto che fate anche orologi castignoli, ricordiamo che se avete qualche esigenza, volete fare un regalo personalizzato, un regalo che sia veramente unico, potete farvi anche? Abbiamo un laboratorio per il disegno, quindi la realizzazione dei vostri gioielli. La trasformazione, quindi portate un vostro gioiello, noi lo guardiamo, controlliamo le pietre, vi diamo anche una certificazione sulle pietre e vi realizziamo un nuovo gioiello nel nostro laboratorio. Ricordiamo anche che le nostre pietre sono tutte controllate e certificate e, insomma, tutte dalla più piccola alla più grande. Chiaramente quelle più importanti hanno una certificazione DOC in più. Certo, è una cosa importante, vorrei dire, ricordiamo anche gli orologi che sono la tua passione. Questa volta non ne parliamo, le facciamo vedere solo in panoramica, però sappiate che ci sono sempre, che sono veramente nel tuo cuore, no? Come sempre. Sì, perché da sempre noi trattiamo l'orogeria in tutte le sue sfaccettature, globale, diciamo, dalla storia al presente. Perfetto. E il futuro è con voi, con noi. Assolutamente sì. Se vi è sfuggito qualcosa, venite personalmente e parlatene con Alessio e anche con tutti i tuoi collaboratori che sono sempre molto disponibili, molto professionali. Telefonicamente, sul sito e sui social. Come di consueto, un saluto dalla famiglia Castignoli. Ciao! Ciao! Ciao!